I ricchi sembrano quasi figure mitologiche, impossibili da intercettare e da mettere sotto la propria rete clienti. Sì, sembra impossibile riuscire a chiudere una vendita. Ma è veramente così? In realtà esistono tre ragioni per cui i ricchi comprano. Frank Marenda è pronto a svelarteli tutti in questo video. Quindi, caro imprenditore, mettiti comodo e scopri subito come vendere ai ricconi. Allora, come comprano i veramente ricchi? Se voi non capite questo, lo apriamo, poi lo rivedremo in termini sempre più approfonditi, ma se non capiamo questo non riusciamo a lavorarci. Allora, come comprano i realmente ricchi? Allora, i realmente ricchi sono abbastanza refrattari. Più sono ricchi, più sono refrattari alle classiche tecniche di marketing. Il vostro marketing non è in grado di raggiungere queste persone, normalmente. Il marketing per le persone normali, le strategie che voi utilizzate per le persone normali, fanno fatica a raggiungere queste persone. Il veramente ricco, magari non ha possibile che non abbia l'account Facebook. Il veramente ricco, se gli mandate una lettera, c'è la segretaria o quattro segretarie davanti che controllano che cazzo gli mandate. Il veramente ricco, se gli mandate un pacco non si sa se lo ha, eccetera, eccetera. Qualunque sia la strategia di marketing che volete utilizzare con queste persone, sappiate che normalmente non funzionano. Non che quegli strumenti non funzionano con queste persone, non funzionano se il vostro marketing è identico. Cioè, a parità di, ok, non funzionano. Ciò che funziona sulle persone normali, sui ricchi non funziona. I ricchi normalmente acquistano, più sono ricchi, più acquistano per referenza diretta. Cioè, il ricco tira sul telefono, ok, e chiede a qualcuno del suo gruppo dei pari, di cui lui si fida, chi è la persona che ti fa questo, che ti segue questo, che ti gestisce questo, ok? O dove vai quando devi. Il mondo dei ricchi, ragazzi, funziona così. Il mondo dei ricchi funziona. Funziona per referenza diretta. Quindi funziona per referenza diretta o con una persona del mio gruppo dei pari o con una persona che fa parte del mio entourage. Quindi vuol dire che io se ho bisogno, cioè voi se volete vendere qualcosa a me, per esempio, l'approccio diretto è abbastanza improduttivo, se non vi conosco. Cioè, meno che non ci sia una serie di condizioni nelle quali lavoreremo, l'approccio diretto è abbastanza sbagliato, perché io non ho tempo di stare ad ascoltare quello che avete da dire. Non è interessante, ok? Non funziona, perché i ricchi sono bombardati di gente che gli vuole offrire delle cose. Se voi, normalmente vi sembra che la pubblicità sia tanta, che la gente vi cerchi di vendere qualunque cosa, provate a immaginare questa cosa per 10 quando uno è anche ricco, ok? Perché si aggiungono tutta una serie di figure che, eccetera, eccetera. E ti propongo il progetto, io ti voglio vendere, l'iniziativa straordinaria, dammi i tuoi soldi per fare questo. Che due maroni, ok? Allora, normalmente questa cosa non succede. Allora, o arriva questa cosa attraverso un mio contatto che io reputo una persona al mio gruppo dei pari, o arriva da una persona che lavora con me o per me, che mi dice, Frank, guarda, su questa cosa che ci serve o ti serve, ho valutato questa cosa, o conosco questa cosa, ok? Rivolgiamoci, o rivolgiti a questa persona, perché? Quindi, voi dovete arrivare prima a qualcuno che mi conosce, ok? Tendenzialmente, un po' tipo LinkedIn, no? Dovete avere le connessioni e dovete arrivarci attraverso una referenza. Cioè, un ricco non ha tempo di valutare quel cazzo che avete da dire, ve la dico così in maniera molto semplice, ok? Ha bisogno di qualcuno, o in linea o in verticale, che prevaluti quello che gli volete proporre prima per voi e che dica, faccia da influencer nei vostri confronti, ok? E dica, valuta questa cosa, prendi in considerazione questa cosa, o addirittura, una referenza più diretta, questa cosa è fantastica, comprala, ok? O vai da lui, o vai in quel ristorante, o vai da quel dentista, vai da qui, ok? Referenza diretta. I ricchi lavorano così, è molto difficile arrivare con dei materiali a freddo da un ricco, quindi fate fatica a chiamarlo col telemarketing come fareste con il modello call center della team, ok? Fate fatica a fargli leggere una vostra lettera, fate fatica a fare un sacco di cose, perché ci sono molti livelli di filtro tra voi e loro, uno. Due, comunque il ricco non ha tempo, tendenzialmente, non è il modo con il quale acquista. Oppure, acquistano per emulare qualcuno che invidiano, questa è un'altra possibilità quando non acquistano per referenza diretta. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che, allora, invidiare, anzi qui non è usato necessariamente con una un'accessione negativa, non è invidia negativa, esiste l'invidia negativa, esiste anche l'invidia positiva, cioè, non so, quella che ti stimola a migliorare, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcuno, ok? Che io invidio e o ammiro, io uso invidia perché si capisce meglio, si capisce prima, ok? Lì succede che il primo tira dentro tutti gli altri. Cioè, se c'è cascato dentro Vasco Rossi, dentro quella cosa lì, lì Gabù è dopo due secondi, è lì che si sta facendo inculare anche lui. È la voce che si sparge, quindi anche senza bisogno che io faccia una referenza. Il semplice fatto che tu sappia che lui è il mio fornitore, o che io mi rivolgo a lui, o che io vado in quel negozio, in quello studio, in quello store, mi rivolgo a quell'azienda come fornitore, semplicemente perché tu lo sai, questa cosa fa in modo che io da ricco mi interessi e la voglia, ok? Quindi questa escalation agli armamenti. Quindi o avete qualcuno che mi consiglia direttamente, voi, o avete la possibilità di mostrarmi qualcuno che io reputo nel mio gruppo dei pari, che ha questa cosa che io non ho, e io rosico e io la voglio. è l'effetto domino, i ricchi comprano così. Io voglio essere quello che sale sul carro, non voglio essere quello che rimane fuori, ok? C'è questo club privé, cazzo, che ha scoperto questa tecnologia del sangue, e io voglio essere tra quelli che ci investono per primi, perché il valore dell'azienda esploderà, io voglio essere quello che dà i soldi a Madoff, perché non volere rimanere fuori. Vedono qualcuno nel loro gruppo dei pari che lo fa, lo vogliono anche loro. Questo è un altro modo, quindi questo è un modo in realtà per stimolare sia le vendite ma anche il marketing deve andare in questa direzione. O per anticipare tendenzialmente qualcuno che invidiano. È un altro modo, ok? Quindi, uno, c'è una possibilità, sono arrivato dopo, non voglio rimanere indietro, oppure ci sono quelli che sono un po' gli early adopters, no? Si dice in inglese, cioè coloro che arrivano prima e se c'è qualcosa tendenzialmente che possono fare per battere qualcuno, ok? Che reputano loro gruppo dei pari, quindi vogliono passare davanti, vogliono far vedere che loro hanno delle cose. I ricchi comprano per referenza diretta, per emulare qualcuno che invidiano o in alcuni casi per anticipare qualcuno che invidiano, ok? Quindi il vostro marketing, ragazzi, e ovviamente il dialogo che viene portato avanti con queste persone deve presupporre questa conoscenza, perché se io non ho questa conoscenza, non riusciamo nemmeno ad avvicinarci a queste persone, perché non capisco come ragionano, ok? Non ci sono altri motivi, ok? Enrico ragiona così, fine, chi sono i ricconi del nostro titolo, ok? Come abbiamo detto, non sono necessariamente le persone con il conto corrente più grosso, sono persone però in grado di permettersi i miei prodotti e i miei servizi più cari e sono disposti a comprarli secondo le mie regole. Quindi questi sono i ricconi, ragazzi, questa è la nostra definizione dei ricconi, sono le persone che sono in grado di permettersi i miei prodotti e i miei servizi più cari. Quindi, se io vendo yacht, le persone che possono comprare i miei servizi, i miei prodotti più cari sono poche, perché gli yacht grandi, ok, costano tante, tanti, tanti milioni, nell'ordine di centinaia di milioni, ok? Se invece faccio il dentista e i miei servizi più cari, c'è bisogno di avere un miliardario per fare un impianto, cioè, rispetto a quello che però va dal basso spendente, ok, dal dentista che fa i prezzi bassi, abbiamo un target diverso, ovviamente devo offrire delle cose diverse, fatte in maniera diversa, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi il concetto di ricconi per me sono, segnatevi questa cosa, sono le persone che si possono permettere i miei prodotti o servizi più cari e sono ovviamente poi disposti a comprarli perché sapremo manipolarli emotivamente nella maniera corretta, sia dal vivo, durante le trattative, al telefono, via chat, eccetera, eccetera, ma anche attrarli nella maniera corretta attraverso il marketing, ok? Questo è il passaggio fondamentale. Quindi, come minimo, ragazzi, la nostra strategia deve essere quella della Disney in questa piramide. Che cosa significa avere una strategia come quella della Disney? Allora, la Disney ha capito che esistono una persona per ogni prezzo, tendenzialmente. Quindi, senza stravolgervi completamente l'azienda, partiamo da, io ve la insegno nella maniera semplice e poi nel tempo, imparando a guardare i numeri, imparerete a gestirla come meglio desiderate. Partendo da che siamo tutti uguali, quindi che abbiamo una base di clientela un po' a muzzo, un po' a bruzzo, la mia strategia è quella della Disney, cioè creare una piramide di prodotti o servizi sempre a maggior valore aggiunto, ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che alla base Disney ha il pupazzetto che costa 10 dollari, 15 dollari, non è che non ce l'ha, o alla base dei parking, non è che Disney non abbia l'ingresso base al parco 100 dollari, dico per i 130, adesso arriva a 140, quella che è la cifra, ok? Ce l'ha, è più caro di qualunque altro parco, però comunque è una cifra che uno normalmente può spendere, ok? Poi ci sono in mezzo prodotti e servizi, prodotti e servizi sempre più per alto spendenti, fino a che vai, quindi ci sono le crociere, le crociere di lusso, puoi comprare, ci sono le multiproprietà, una serie di prodotti o servizi che non finisce più, ok? Quando arrivi là in alto, ok? Ci sono prodotti o servizi estremamente cari rispetto ai 20 dollari di partenza per il peluche, che cos'è? Questo è il matrimonio per esempio, che tu puoi fare, tu puoi sposarti a Disney World e questo è Magic Kingdom, questo è il castello di Cenerentola, ok? Quindi tu puoi essere sotto il castello di Cenerentola, ti puoi riservare il parco, tutto per te, per il tuo matrimonio, il parco chiude alle 7, la gente normale, esci e lo riservi per te, solo l'affitto del parco per sposare, quindi dopo ci devi mettere il catering e tutto il resto, solo diciamo l'affitto crudo, ok? Costa 180 mila dollari, quindi la location, quindi solo di location, quindi quando la vostra location è il ristorante, ma non lo pagate perché pagate il catering, ok? Qui no, qui dovete pagare il pranzo e tutto quello che ci volete mettere per manià, in realtà prima di poter fare questa cosa devi appoggiare 180 mila dollari per poterti affittare Magic Kingdom, ok? Ed è bellissimo perché se andate a vedere, c'è su Disney Plus, si chiama Matrimoni da Sogno con la Disney, se andate a vedere, e vedete che arrivano, arrivi con il cocchio, la carrozza quella di Cenerentola fatta di cristallo, cioè ti fanno una cerimonia che è straordinaria, ok? Quindi è fuori un matrimonio che non sarà mai come i veri matrimoni napoletani, però vedrai che un 2-300 mila dollari comunque costa tendenzialmente, ok? Quindi rispetto a la base, ok? Quindi del ticket price d'ingresso, i prodotti d'ingresso, ok? Si può arrivare in realtà a spremere i clienti con prodotti o servizi di alto livello, quindi tu nel parco ci puoi entrare con 130-140 dollari o te lo puoi affittare per la sera 180 mila per fare la tua cerimonia, ok? Di matrimonio. E quindi, ok? Quindi questo ragazzi cosa significa? Significa che è necessario per ognuno di noi capire che non posso continuare a vendere quello che sto vendendo e basta cercando di attirare dei clienti migliori, che non vuol dire niente. In realtà i clienti migliori, dopo lo vedremo, si attirano anche in funzione di prodotti o servizi di fascia alta che altrove non vengono promossi e che attirano queste persone, cioè i ricchi vengono attirati da cose da alto spendenti, non vengono attirate dalle stesse cose basso spendenti che stavi vendendo prima. Quindi in azienda, se tu non hai una catena, non hai una piramide di prodotti o servizi che puoi comprare, non attirerai mai un certo tipo di clientela, perché è attirata da quel tipo di esperienza, particolare, straordinaria, eccetera, eccetera, che solo tu sei in grado di offrire. Non sto dicendo, sia ben chiaro, di eliminare in parte, perché se no vi faccio saltare la cassa, non sto dicendo di eliminare le versioni basic dei vostri servizi, dei vostri prodotti, dei vostri trattamenti, ok? Di quello che vendete, eccetera, eccetera. Vi sto dicendo un'altra cosa, che se volete vendere ai ricconi è necessario, ma è necessario proprio come progetto, creare per i vostri prodotti o servizi una versione in upselling, cioè una versione più cara, con più servizio, più straordinaria, più costosa, ok? La versione VIP, la versione full optional, la versione straordinaria, la versione momento magico, ok? Eccetera, 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 qualunque cosa voi facciate. Perché? Perché per ogni prezzo esiste una persona. La Disney ha capito questo in realtà, che per ogni prezzo c'è una fascia di clientela, ovviamente sono molte di più le persone che entrano nel parco, di quelle che lo noleggiano la sera per farsi il matrimonio, ma è una piramide, ok? Questo è il senso. Quindi la prima cosa che dovreste fare, ragazzi, è quali sono i prodotti, i servizi che avete e che in questo momento vendete e che potete trasformare in un'esperienza di livello superiore, facendola pagare molto di più, per due, per cinque, per dieci, o quali sono prodotti o servizi che in questo momento non state servendo, non avete all'interno della vostra strategia, perché pensate che non ci sia mercato, e che invece vi permettono di attrarre comunque un certo tipo di clientela che altrimenti a voi non si avvicinerebbe in nessun modo. Quindi il vostro prodotto standard, il vostro servizio standard, quello che fate, la vostra consulenza standard, il vostro modo standard di fare le cose, la vostra ceretta standard, il vostro modo standard di fare l'igiene dentale, il vostro modo standard di fare l'agente immobiliare, valutazione, non va bene, non va bene se volete avere a che fare con le persone di alto livello, perché non si rivolgeranno mai a voi, perché non hanno niente da comprare da voi. I ricchi non si avvicinano, quindi segnatevi questa cosa, i ricchi innanzitutto non vi si avvicinano perché non avete niente da vendergli. Quando voi capite questa cosa, voi avete fatto un salto in avanti, potremmo chiuderla qua, il corso, invece che fare tre giorni, vi giuro che potremmo chiuderlo qua. Cioè nel senso, è una battuta, ma no. Il grosso è il problema della clientela di merda che voi avete, della quale vi lamentate, eccetera, eccetera, è perché avete prodotti che attirano quella gente lì. Non vi potete lamentare che avete i topi in azienda se avete il formaggio da vendere. Se vendete il formaggio arrivano i topi. Non è che ti sbagli. Che cosa avete da vendere a un ricco, a un super ricco, o a un molto benestante, cosa avete da vendergli oggi? Se il servizio e il prodotto che voi avete è tarato su di me, sulla signora Maria, per uno di due è tarato male. Quindi se voi avete una fila di signore Maria e volete me, e l'accoglienza che mi fate è uguale, la cerimonia che mi fate è identica, il trattamento presuppone la stessa procedura, gli stessi prodotti, lo stesso percorso, gli stessi servizi, io non posso essere vostro cliente perché voi non avete niente da vendermi. Non vengo in un posto dove i prodotti sono tarati per i poveri. Non ci vengo. E quindi il problema di vendere ai ricconi, innanzitutto, è avere qualcosa da vendere a queste persone. Poi magari la persona entra in alto alla piramide e vi compra anche il resto, scendendo magari, se riuscite a venderglielo ovviamente in maniera diversa perché lo avete coinvolto in maniera diversa, eccetera, eccetera. Ma innanzitutto ci dovrebbe essere qualcosa che attira questa persona. Ok? Attira questa persona. E io, vi faccio l'esempio di Disney perché sapete che mi piace sempre parlarne, ok? Però non vado mai, adesso non vado perché è chiuso per il Covid, ma non vado mai in nessun parco Disney, parlo di quelli veri, non di quella cosa taroccata che c'è a Parigi che non è un parco, di quella roba, i francesi non ce la fanno. I parchi veri sono negli Stati Uniti. E non vado mai pagando il biglietto base, mai, mai. Perché non è un'esperienza che voglio fare. Non è un'esperienza che voglio fare, ok? Quando io vado a Disney World, vado comprando il VIP tour con la guida privata. La guida privata a Disney World costa una media di 700 dollari all'ora. Quindi il tuo biglietto per tutto il giorno costa 130 dollari. Il mio, quando entro, ogni ora che passa sono 700 dollari. Io passo otto ore nel parco, ok? È il target minimo, ok? Sette, però fate i conti di quanto io spendo al giorno dentro Disney World. Se loro non mi offrissero quella possibilità, io non andrei. Io voglio che voi capiate questa cosa. Se non ci fosse quel servizio qua, io questo non lo comprerei. Non lo comprerei. Perché non è, non voglio entrare, non voglio fare la coda, non voglio stare sotto il sole, non voglio aspettare per fare le giostre. Io voglio entrare, voglio che la gente, cazzo, che tutta in coda rosica perché vedono che la mia guida personale mi fa passare davanti a tutti, e loro se la prendono in del culo, ok? Dopo due ore. E voglio entrare per fare la giostre. Non voglio passare il tempo nel parco ad aspettare per fare le giostre. Voglio entrare nel parco e fare le giostre, ok? Solo che aspettare costa 130 dollari, ok? Farle costa 6.000 dollari, ok? 6.000 dollari contro 130. Ma se loro non mi offrissero questo livello per ricco, io non entrerei nel parco, ok? Pensate che dentro Disney World, vuoi stare almeno due o tre giorni perché non riesci a vederli, tutti i parchi non riesci a vederli, ok? Vedete quanto costa, ok? Ci vado sempre di continuo, ma non per... Mi raccomando, tutto quello che vi dico è che non è per fare lo sbona, non ho bisogno di fare lo sbona, è solo per dirvi come ragiona una persona che può permettersi determinate cose, ok? Non ci andrei, non ci andrei, ok? Quindi è lo stesso concetto per voi. Se voi avete dei prodotti e servizi che state vendendo alla fascia bassa della popolazione, vuol dire che non avete nessun modo di attrarre gli autospendenti, perché gli autospendenti da voi non ci vengono. Esattamente come io non andrei a Disney World se Disney World non mi offrisse l'opzione da 6.000 dollari al giorno. Non ci andrei perché mi rompo i coglioni. Entro per fare tre giostre e per aver preso il sole, non mi va, ok? Quindi questa ragazzi è la cosa più importante. Quindi la vostra azienda va riprogettata, quindi vi dovete mettere lì, ah ho capito, no, quel cazzo, cioè quando avremo finito questi tre giorni, compito, ok? Adesso andiamo avanti, compito è riprogettare alla propria azienda quali sono prodotti o servizi che io posso generare, erogare, aggiungere, muovere, eccetera, eccetera, affinché io possa attirare le persone di fascia alta. Quindi, brevemente, l'evoluzione dell'economia, ok? Non vi faccio una lezione di economia, è solo per darvi uno spunto iper rapido. Allora, noi abbiamo avuto in Italia degli anni 50, insomma, il dopoguerra, fino agli anni 80, una situazione di scarsità. Cosa significa? Significa che non c'era niente e le aziende nascevano, quindi tu potevi fare bene o arricchirti o stare abbastanza bene, anche come imprenditore, piccolo imprenditore, semplicemente perché eri il primo che apriva in quella zona, non c'era niente, tu eri quello che apriva il negozio di elettrodomestici, eri il primo dentista della zona, eri la prima pizzeria della zona, ok? Semplicemente riempiendo l'Italia, ok? In 30 anni di attività, guerra, tutto spianato, ok? Andiamo avanti, in trentennio ricostruiamo tutto, ok? È un'epoca di scarsità, quindi tu campavi bene, quindi i clienti avevano bisogno di venire da te, si comprava per prossimità, per comodità, non c'era internet, non è che oggi vado e cerco il paragone dei prezzi, la lavatrice, il televisore migliore, c'era il negozio di quartiere, lì andavo, dove cazzo vado? Non è che mi metto in macchina, faccio 100 chilometri per andare, cioè, dove vado? Ok? Quindi la gente che tu, semplicemente perché eri lì, di base nel grosso campavi con la gente del, infatti per aprire le attività, una volta che cosa si faceva? Si sceglieva la zona contando quante attività di quel tipo già erano aperte in quella zona, ok? Qui ci sono già quattro pizzerie, no, andiamo nell'altro quartiere, si faceva così, ok? Il problema è che ancora oggi si fa così, poi la gente fallisce, ma questo è un altro paio di maniche, ok? Diciamo che quella strategia, ok? Vado lì perché in quel quartiere ancora non c'è nessuno, è una strategia che, diciamo, è molto anni 80 massimo, ok? Poi, diciamo, le cose un pochino cambiano, ok? Perché ovviamente si riempie tutto, siamo nell'epoca dell'abbondanza, quindi cominciano gli anni 80, l'imprenditoria continua a crescere, fino al 2000 sicuramente, e comincia ad esserci quindi concorrenza, quindi le persone da una scarsità di offerta cominciano a avere un'abbondanza di offerte, quindi cominciano a poter scegliere tra più competitor, anche a livello locale, perché nascono le cose come i supermercati, i vari hobby, eccetera, eccetera, quindi ci sono più modi di ottenere gli stessi prodotti o gli stessi servizi, ok? Una crescita. E dal 2000 ad oggi in realtà c'è un eccesso, cioè c'è troppo di tutto. Le persone sono in confusione, semplicemente perché oggi con internet cerco una cosa e c'è una fila di fornitori potenziali che non finisce più. Quindi oggi siamo in una scondizione di eccesso di informazioni, eccesso di offerta. Cercare di vivere in una situazione con un eccesso di offerta, come vi ha insegnato vostro nonno a fare impresa, che l'ha fatta negli anni 70, non è proprio una cosa straordinaria, ok? Non funziona, ovviamente. Oggi ci sono delle regole che è necessario conoscere per poter prosperare. Quindi quali sono in realtà le cose importanti da sapere? Allora, come gestire un riccone con efficacia in un periodo del genere? Allora, più una persona è ricca, più ha possibilità di scelta, ovviamente. Perché? Perché io posso comprare cose che la gente normale non gli verrebbe nemmeno in mente di comprare o semplicemente non può permettersi di comprare, ok? Se tu hai pochi soldi, il massimo che puoi fare è la spesa della Lidl. No, adesso è diventato da riccone anche la storia delle scelte, però vabbè. Ok? Quindi hai comunque tantissima scelta, ma è più limitata. Oggi anche i poveri hanno una scelta infinita in realtà di cose, però diciamo i ricchi in particolare hanno ancora più possibilità di scelta. Siamo nell'epoca appunto dell'eccesso di domanda. E qual è il problema, o meglio, qual è il punto, o meglio ancora, qual è la cosa figa di tutto questo? È che ironicamente e fortunatamente per noi è anche più facile un ricco da manipolare, ok? Per metterlo in una posizione nella quale non ha nessuna scelta. Mentre il povero, scusate, uso la parola sempre per ipersemplificare, perché sennò lo richierisco, ok? Non c'è nessuna nota dispregiativa rispetto a quello che dico, però diciamo, la persona che non ha tanta possibilità, che da adesso andanti chiameremo povero senza offesa, e in realtà ha molte più possibilità di scelta di un ricco nella concretezza. Ma come hai appena detto che in realtà il ricco può scegliere di più? Sì, ma il ricco può essere manipolato per essere messo in un angolo al quale non può scegliere. Io, che sono ricco, vi assicuro che sono in questa condizione. Tutte le persone come me sono in questa condizione. Siamo estremamente facili da mettere in un angolo per scegliere una cosa, cioè in modo da non avere scelta, poter comprare solo una cosa, ok? Perché? Perché il motore trainante comportamentale che ha un ricco ha solo a che fare con il trovare la migliore alternativa possibile tra tutte le scelte che hanno. Quindi, dato che io compro solo il meglio, non è difficile mettermi lì, incantonarmi e vendermelo, ok? Se è più caro già è un buon indicatore. Il ricco, come vi ho detto prima, non è intelligente, ok? Il ricco ha solo qualche soldo in più. Io che sono un burinaccio ruvido, cioè quando vado al ristorante, come scelgo la bottiglia di vino dal catalogo? Se non la scelgo qualcuno per me, guardo la più cara, prendo quella. Perché? Perché devo i presemplificare, ok? Se poi provano anche a vendermela, me la vendono di sicuro, perché mi vergogno anche di non ho preso quella che costa meno, questa figura da barbone fai, cazzo, sei scemo. Meno male con Alberto che mi dà la ricaricabile, perché se no spenderei un sacco di soldi, cioè meno male, sono tenuto un po' per le briglie, ok? Il povero invece non ragiona così. Il povero ha molte più scelte, perché valuta rapporto, qualità prezzo, tutte queste. Quando vuoi ragionate rapporto qualità prezzo, non state ragionando come ragiona un ricco. Il ricco quando acquista non ha quel tipo di motore all'interno, ok? Il ricco l'unico motore che ha è comprare il meglio. Fine. Fine. Non voglio paragonare. Certo, lo faccio quando sono in carenza di informazioni, ma se nelle informazioni tu riesci a dimostrarmi che ciò che mi stai vendendo è la soluzione migliore, il pricing diventa irrilevante. Per un ricco il prezzo è irrilevante nel momento in cui, non è che lo puoi inculare facendogli pagare merda cara, non è che siano coglioni così del tutto, ok? Non è così. Sto dicendo che nel momento in cui tu sei in grado di generare un'offerta, sei in grado di farci il marketing, sei in grado di spiegarmela, ok? Quindi da, ci deve essere un cazzo di prodotto o servizio che effettivamente deve essere top, ok? Poi ci deve essere il fatto che col marketing me lo presenti bene, ci deve essere che se ti sto parlando, sto parlando con un tuo venditore, me lo sappiano spiegare in maniera specifica, al netto di quello io non ho alternative perché comprando solo il meglio, ah, se me lo fai con un po' di posizionamento, quindi che è ancora più efficace per la mia situazione specifica, cioè è un attimo appoggiarla, non è molto difficile, non è molto difficile, ok? Quindi per assurdo è vero che sulla carta il ricco ha più possibilità, ma può essere manipolato affinché non ne abbia, perché il ricco non ragiona come ragionate voi, il ricco non fa i confronti, non fa i paragoni, o meglio, li fa, ma li fa solo per capire qual è il meglio non relativo, il meglio assoluto, il meglio assoluto, non il meglio relativo. Voi siete abituati a confrontare la roba per vedere cosa pagare, cosa non pagare, perché cercate il meglio relativo, ok? Il povero cerca, in funzione di quello che può fare, ok? Il miglior rapporto qualità-prezzo, ok? Il ricco non ce l'ha quella roba lì, quindi quando voi dite, giustamente magari anche perché è la realtà che vivete, quindi non è che io la nego, ma quando mi dite i clienti da me nella mia zona guardano solo il prezzo, non sono i clienti nella tua zona, porca di quella puttana, sono i clienti che attiri tu con i tuoi prodotti di merda, i tuoi servizi di merda e attiri i clienti alla base della piramide che ovviamente è vero, la massa delle persone acquista per il prezzo e non ci puoi fare un cazzo. La gente che va alla Lidl non ci puoi fare un cazzo, va lì e guarda per il prezzo, non la cambi quella mentalità lì, ok? Mia mamma non gliela cambi la mentalità che va in giro per tutti i supermercati di discount a vedere dove trova i pelati a 10 centesimi in meno, non gliela cambi quella roba lì, ma io che sono suo figlio sono completamente diverso. Quindi il problema è che tu attiri mia mamma o vuoi attirare me? Con quello che fai, se hai delle persone che ti rompono il cazzo sul prezzo vuol dire vecchio che stai facendo marketing per attirare mia mamma, finisce lì. Io non chiedo nemmeno quanto costa la roba. Io quando vado a comprare le cose, è una bella frase che c'era in autostrada per la ricchezza, stiamo per ripubblicare tra le altre cose, libro di MJ e di Marco, dove diceva questa cosa, molto semplice, lo faceva riferito alle macchine, ma vale per qualunque cosa, cioè se devi chiedere quanto costa non te lo puoi permettere, è fuori dal tuo budget di spesa, cioè se la devi finanziare, non è roba per te, vuol dire che stai spendendo troppo rispetto a quello che è. Quindi quando io compro qualcosa, prima è la voglio, poi dopo, se devi chiedere quanto costa non te lo puoi permettere, il ricco normalmente non chiede quanto costa, ok? O meglio, non è che non chiede quanto costa, non è il fattore discriminante nella scelta. Dopo ve lo mostro anche, ma nelle aziende, no no no, dopo vi dimostro anche una big company come acquista, vi farò vedere durante il corso, magari domani mattina mi sembra, come acquista una grande azienda, quali sono i parametri con i quali un'azienda chiama la gara, vi faccio vedere un report segreto delle grandi aziende, e vi faccio vedere dove il pricing esiste come criterio valutativo, ma è così sepolto dentro tutta una serie di altri criteri che fanno punteggio, che alla fine vedrete che non conta niente. Il pricing non ha in realtà pregio veramente né per le aziende vere, altospendenti, né per il privato, ricco, altospendente, ok? Non comprare senza bisogno di chiedere il prezzo, ok? Ma non è il pricing per fare, cioè bisogna che voi, perché se no, se siete fuori dalla mentalità, prendete quello che dico come guarda questo, non io in generale, ma chi fa così è un coglione, uno sborone, no! È una persona che lo fa perché semplicemente per voi è come chiedere il prezzo, non lo so, andare a... se voi andate al bar, non è che un cappuccino e una brioche e chiedete il prezzo per capire se potete permettere, ok? Non avete bisogno. Allora, se io vado, senza fare lo sborone, ma se vado dentro la BMW, per capire, se vado dentro la Mercedes e voglio una macchina, qualunque, se mi piace la compro, non ho bisogno di chiedere quanto costa, perché so che, più o meno, con la fascia di prezzo, per quanto posso spendere, ne esco io. Magari se vado dentro la Lamborghini, chiedo, perché sono sicuro, ok? Quindi non è che sto facendo, vado dentro la Rolls-Royce, ok? Chiedo, ok? Ci parte un paio di milioni di macchine, aspetta, ok? Magari chiedo, ma non è quello il punto, ok? Quindi è tutto proporzionato, ragazzi, A. Quindi voi dovete sapere che a meno che non vendiate yacht di superlusso, ciò che vendete dovete attirare un certo tipo di pubblico che spendere poco gli sta sul cazzo. Cioè, se gli fate spendere poco, non compra, nemmeno viene, non è che non compra, è offensivo per lui, cioè mi offrite delle cose banali, standard, scontate, settate sulla fascia povera della popolazione. Cioè, la vostra clientela assomiglia più a me o più alla persona che va al Lidl? Non è che dovete pensare al super ricco, ragazzi, a Bezos. Cioè, una persona che appena appena, due soldini, però, ce li ha, ok? E se va a comprare una macchina, va a comprare una moto, va a comprare una televisione, non chiede, quella mi piace, quella compro, me la dai, poi mandami la fattura a casa, non voglio sapere. Il ricco ragiona così. Non è giusto e sbagliato, non dovete metterci giudizio sopra, ok? Con la vostra mentalità, perché ovviamente ognuno di voi ha il suo ologramma, ok? E se piglio un cazzo di conservativo e gli spiego che io faccio, quello impazzisce. Perché? Per lui, no? I numeri che... No, no, perché un ologramma è da un'altra parte, non mi interessa, ok? Non devo soffrire, ok? Da quel punto di vista. Quindi, ognuno ha il suo ologramma, abbiamo parlato mille volte, ma non ha le base, ognuno ha dei criteri decisionali specifici. Nella media, per il ricco il pricing non è un argomento rilevante, in niente di quello che fa, in niente di quello che fa, ok? Il problema è che non è scemo, cioè butta i soldi a cazzo di cane perché non chiede il prezzo, no. Si informa, chiede, anzi è più diffidente rispetto a una persona normale, tante volte, infatti chiede le referenze da altre persone, ok? E tutte queste cose, perché ha dei problemi psicologici che dopo vedremo, non è tutta rosa e fiori, dopo vi farò vedere quali sono i problemi psicologici che un ricco si porta dietro, ok? La paura di perdere la faccia, la paura di fare una figura di merda, la paura che si sappia che è stato truffato, ha tanti problemi che uno normale non ha, ok? Però nel momento in cui voi riuscite a metterlo in quell'angolo, attraverso il posizionamento, attraverso il marketing, attraverso la strategia, attraverso il vostro prodotto, ok? E' chiaro che io devo essere molto diretto, cioè se il prodotto o il servizio straordinario, manco ce l'avete, e qui non ho nessun motivo per entrare in contatto con voi, ok? Quindi questo è il problema di base. Quindi, come dobbiamo fare, quindi? Se sei in grado di renderti l'alternativa migliore tra tutte le alternative possibili, ma la migliore, come vi ho detto prima, ragazzi, in senso assoluto, non in senso relativo, ok? Cioè voi dovete ragionare così. Se io, a prescindere da quanto... Segnatevi questa cosa, ok? Ma segnatevela, ok? Perché questo è l'esercizio che dovete fare. Se io dovessi riprogettare, riformulare il mio prodotto, il mio servizio, il mio trattamento, ok? Creandone la versione più figa in assoluto che vedo nella mia testa, senza pensare a quanto la devo far pagare, ok? Perché magari costa troppo, non la faccio, non me la comprerebbe nessuno. Lasciate questo ragionamento. Se io dovessi nella mia testa progettare il trattamento, il percorso, il corso, il prodotto, ok? Più figo che posso. Come sarebbe? E lo disegnate, e lo progettate. Quando avete fatto questo, ok? Poi, frequentando anche gli altri corsi, poi avremo anche la sessione con i numeri, per l'amore diciamo, non è che possiamo parlare di tutto in questo caso, però nella media è quanto cazzo devo far pagare. Cioè, devo vedere quanto mi costa e quindi poi che markup tendenzialmente metterci. Ma sappiamo che vendere ricchi mi crea una price elasticity, un'elasticità nel prezzo molto ampia, ok? Questo è il vostro primo esercizio. Cioè, se io dovessi ricreare, riprogettare o creare una versione alternativa di livello superiore, come farei? Perché è tutto relativo, ok? Nel senso, guardate la differenza solo tra Svizzera e Italia. In Italia si riesce a finire su tutti i giornali, Cracco riesce a finire su tutti i giornali, perché in centro a Milano fa la margherita e la fa pagare 16 euro. Ed è lo stellato della margherita, ok? Qui 16 euro in Svizzera costa la bottiglietta d'acqua. No, scherzo, nel senso, è il costo di una margherita normale, ok? Se vai nei ristoranti un po' un po' ti costa anche 22, 23, 24 euro e non è sicuramente stellato e non è Cracco. Quindi, in Italia la gente si stupisce per la roba che qui mangi da Nino è il pizzetaro, ok? Quindi esiste, ragazzi, cioè è tutto relativo ovviamente al contesto, quindi dopo lo lavoreremo, ok? Però rispetto al vostro contesto, ok? Cioè se voi vi stupite, vi sembra cara una pizza 16 euro, io vi dico cazzo che è sottocosto rispetto alla pizza normale, cioè la pizza gourmet da voi è sottocosto il cuoco più famoso, insomma lo chef, chiamatelo come cazzo volete, che è più famoso d'Italia, perché quello è alla fine, in termini quantomeno di notorietà, fa la pizza 16 euro, si scandalizzano finisce tutti i giornali, ah perché è cara, qua è napoletana, in rivolta, si viene un cazzo di napoletano qui in Svizzera, si impicca, perché la margherita costa 23 euro, se vai nel ristorante un po' un po' 24, ok? Non 4 euro, presso politico, ok? Non costa 4 euro, questo vinde 4 euro, c'è quel vinde in Nanz che è tanto, voglio, ehi, vinde 4 euro, io faccio lo cazzo, vinde 4 euro, però è così, ho detto bene Raffa, grazie, e quindi no, volevo un po' di conferma, mi sbaglio, quindi il concetto è non gli lasci scelta né scampo, questo è il segreto, ok? Quindi il problema è, ce l'abbiamo o lo possiamo progettare, lo possiamo riprogettare quel prodotto, quel servizio di fascia alta che oggettivamente è la migliore tra tutte le alternative possibili? perché questo è anche un po' la regola del posizionamento, solo che deve essere molto estrema, nel senso che noi come regola del posizionamento sappiamo che, per chi studia come da un po' di tempo, sa che la regola di base è meglio essere primo che essere migliore, vero o no? Meglio arrivare per primo nella categoria e diventare famoso in quella categoria per primo che essere semplicemente migliore. In realtà, è vero, ma dipende questo migliore quanto è migliore, nel senso che non deve essere la versione più o meno simile, un po' meglio rispetto a quello che c'era prima, perché questo è l'errore che fanno tutte le grandi aziende, copiano la concorrenza, la fanno un po' meglio e cercano però di stare lì, in quella fascia di prezzo, addirittura la fanno un po' meglio e cercano di farla pagare meno. La classica strategia, ti do il doppio Red Bull e Monster, la Monster e la Red Bull te ne danno il doppio e costa la metà. Questo è il concetto, no? Gli altri sono tutti una copia, loro, e che ovviamente non fanno niente. Il concetto di, in realtà, tu puoi essere il primo, vi do la variante, la nostra variante, ok? Al concetto di posizionamento, tu puoi essere il primo, meglio essere il primo, o essere il migliore in assoluto però per distacco. Cioè, essere il migliore in assoluto è avere una versione così di lusso, così avanzata, che non assomiglia a quello che fa la concorrenza. Cioè, la radice è quella ma il servizio che ci hai creato intorno non è offerto alla concorrenza e soprattutto il prezzo non assomiglia a quello della concorrenza. Nel senso che non cerco di fare un po' meglio per competere nella stessa fascia, sullo stesso cliente, sulla stessa fascia di prezzo. Questo è l'errore del posizionamento, no. Io, lì, se devo fare quella battaglia è meglio essere il primo, se no mi tolgo e quindi ne creo una versione, quindi creo una nicchia di per sé, cioè vado a posizionarmi su una fascia molto più alta e quindi anche il pricing deve essere molto più alto. Il pricing alto attira gli altospendenti. Se mettete, ragazzi, il formaggio arrivano i topi, ok? Se mettete il miele arrivano le api, che vi pungono, no, arrivano gli orsi, vabbè, è sempre brutto quello che arriva, però nella media ci siamo capiti, quantomeno non arrivano i sorci che sono brutti, ok? Almeno quello, ok? Quindi non lasciare scelta né scampo all'altospendente. Quindi le persone normali o basospendenti o poco spendenti o povere hanno la più ampia possibilità di scelta della storia dell'umanità oggi, in questo momento economico, hanno comunque anche loro la più alta, la più ampia possibilità di scelta, ma non sono selettivi come un riccone, ok? Loro sono selettivi semplicemente sul prezzo, cioè nel confrontare il rapporto qualità-prezzo, ma non sono selettivi nel senso di selezionare la cosa realmente migliore, anche perché purtroppo non se la possono permettere. un riccone può essere manipolato perché è selettivo, ok? Un ricco tende ad essere molto più viziato da un certo punto di vista, se vogliamo usare questa parola, anche se non è corretta, cioè selettivo nel senso di viziato, quindi non si accontenta della roba normale. Vi faccio qualche esempio per capirvi. Quando voi avete voglia di cinema, cosa fate? Adesso niente perché non ci si può andare, ma supponendo che voi aveste voglia di cinema, cosa fareste? Andreste al cinema. Quale cinema? Il cinema della città, dove siete? Uscite, c'è il cinema e andate al cinema. Solo che io, essendo appassionato di cinema, essendo appassionato di audio-video, ok? Essendo appassionato, ok? Del fatto che non mi piacciono le cose, spendere poco in realtà per avere qualcosa che non mi appaga, non faccio questa cosa. Cioè, io quando vado al cinema quelle volte all'anno vado qua. Questa che vedete è, si chiama Sala Energia dell'Arcadia di Melzo, quando fu costruito questo cinema, era una delle cinque sale certificate THX da Lucas in persona in Europa, ok? Il problema è che andare qua, voi quanto spendete per andare al cinema? 6, 7 euro, 8 euro, adesso quanto costa? 8 euro, 8 euro, ok? Io per andare qua spendo una media di 350 euro per andare al cinema, perché quando vado al cinema ci vado con l'autista, quindi spendo 150 euro ad andare, 50 euro di biglietti, due, tre, quattro persone quelli che siamo, patatine e cose, 150 euro a tornare a casa. Però io il film o non lo vedo, io sono selettivo, o non lo vedo o lo vado a vedere lì. Non vado da altre parti, così come quando sono negli Stati Uniti, ho il mio cinema, non ho il cinema, non vado al cinema Santa Monica, vado al cinema a Torrens, perché è il Dolby Cinema, che è l'equivalente di questo, vado lì, mi faccio X chilometri, tutto questo, eccetera, ma vado lì. Il ricco è selettivo. Quindi io mi faccio una marea di chilometri, non voglio nemmeno guidare, non guido io, perché voglio star rilassato, ok? Cioè l'autista privato mi porta, mi riporta, io voglio solo vedere quel cazzo di film. Il biglietto costerebbe 7 euro, non è che costa di più, per quanto è straordinariamente, ok? Quindi la sala straordinaria, c'è un impianto Meyer Sound bellissimo, il top che esista è questa sala qua, ok? Costa niente andarci, però è così figa che io mi faccio, cioè spendo 20 volte, 30 volte, ok? Il prezzo del biglietto semplicemente per arrivarci, più il tempo, eccetera, eccetera. La persona normale non fa questa cosa, la persona normale va al cinema oggi e sa, dai andiamo al cinema, dai raga, si va al cinema. Non faccio così, magari ci vado una volta in meno, ma quando vado, vado dove dico io. Tanto che l'impianto è così figo che io ho preso Tiziano, ok? E gli ho detto, lo voglio a casa mia. Quindi lui è andato alla Meyer Sound e ha detto, questa roba qua mi serve in versione mignon dentro casa di Frank, ok? Non gli ho detto quanto volevo spendere, ho detto, voglio questa cosa in casa mia, ce la metti e poi pago la fattura, ok? Solo l'impianto, senza il televisore, lo schermo, solo l'impianto audio costa 16.000 euro, solo le casse, cioè il mixer e tutto, non ho chiesto quanto costava, ho detto, voglio questa roba in casa mia, montala e paghiamo, mi dici quant'è, pago, fine. Il ricco fa così, voglio questa roba, fine. Quindi mi piace, quando sono a casa mia voglio sentire e vedere, alla stessa maniera in cui vedo cosa mi serve, eh ti servono 85 pollici perché la distanza, ok prendiamo 85 pollici, 9.000 euro di televisione, 16.000 euro di impianti, un cazzo in altro, io solo per vedere la televisione ho 25.000 euro di impianti a casa, solo per guardare il telegiornale, per vedere se piove, poi non la guardo, però intanto sta lì, ok? Non ci gioco nemmeno, ho comprato l'Xbox l'altro giorno, era ancora impacchettato, non l'avevo nemmeno montato in casa, non ho fatto nemmeno l'unboxing, ok? Ve ne parlavo prima, no? Il Disney VIP Tour, io se vado alla Disney vado a 6.000 euro al giorno, non vado a 130 dollari al giorno, ok? Cioè il ricco è selettivo, vuole l'esperienza top, riuscite a darmi un'esperienza top che i vostri concorrenti nemmeno mi offrono? Se non riuscite a farlo, non mi attirate, non c'è modo, io non vengo, io, cioè, tra il cinema dove vado io e casa mia, ci sono in mezzo 50 cinema, io non mi fermo lì, perché voglio il ricco, compra così, volete quella gente lì? Raga, parte da riprogettare la vostra azienda, parte da riprogettare il prodotto o il servizio, quindi i numeri vanno conosciuti, vanno gestiti, perché in realtà mi servirà investire nel riprogettare l'azienda affinché possa accogliere un ricco, affinché possa servire un ricco, affinché abbia prodotti o servizi che possano essere adatti a un certo tipo di pubblico, o quando compro le cose, guardo chi, devo fare i regali di Natale, dove potete fare i regali di Natale voi? Dovunque volete, andate su Amazon, fate i regali di Natale, è semplice, io guardo cosa mi offre la gente, vado qui e vi faccio vedere questo breve filmato, è il filmattino, è il marketing, il filmattino di Natale che ha fatto la Disney quest'anno, non so se l'avete visto, ve lo faccio vedere, è molto carino. Vivi ogni attimo il canto del mondo, un suono magico, lo sguardo che hai, quanta gioia dà, parla di felicità, con il vento che mi sospingerà, io esserò le vele e verrò da te, si cambia tutto quello che il cuore sa, resta incancellabile ed ovunque andrai, la strada è scritta lì, tu non ti perderai, mi ricordi che guido a noi. Si cambia male, tutto quello che il cuore sa, resta incantare, mi ricordi che guido a noi. che il cuore sa, è per te indelebile ed ovunque andrai, la strada è scritta lì, tu non ti perderai. Se guardi le stelle, ti orienterai, cerca la strada del cuore, se non la sai, io sarai il tuo bianco, mi avrai sempre accanto, i ricordi ti guidano. E' come guardare una bussola, sarà la mia voce che ti guiderà, quando perdi la strada, da ovunque tu vada, il tuo cuore mi troverà. Ok, questo è il marketing della Disney, sono bravini, e nella media ti costringono a essere l'unica alternativa possibile. Ok? Quindi, se riuscite a cogliere il target giusto, e entrare nel dialogo mentale giusto delle persone, e offrire qualcosa che le altre persone non offrono, e ovviamente ne parleremo nella sessione successiva, ciò che io devo offrire è un'esperienza straordinaria, quindi non è solo un problema del prodotto in sé, o del servizio in sé. Quindi, il prodotto conta, il servizio conta, il prezzo conta molto poco, quasi niente, quindi queste sono le componenti, il prezzo conta molto poco, il prodotto conta, il servizio conta certamente, ma le emozioni in realtà che io sono in grado di suscitare, nei confronti dei miei clienti, sono la chiave in realtà per rendermi irresistibile, non lasciare scelta alle persone che si interfacciano con me. Gli altospendenti hanno le loro chiavi di lettura, ok, per emozionarli, sia per rimuovere da loro le emozioni negative che le bloccano nei confronti dell'acquisto, sia per portarli verso le emozioni positive. Caro imprenditore, se sei arrivato fin qui è perché ti è piaciuto questo video. Per questo ti chiedo, e se ci fosse un club esclusivo con incontri di aggiornamento ogni mese per persone che vogliono raggiungere il successo proprio come te? Sto parlando del circolo degli imprenditori di Frank Merenda. Se vuoi scoprire l'offerta a te dedicata, ti basta cliccare sul link in descrizione. Fermo, dove credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito e attiva la campanellina. Non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo, giusto? Allora fai bravo, iscriviti ora. Allora fai bravo, iscriviti ora.